Lunedì ricominciano le scuole e anche le materne riapriranno i battenti. I bambini che frequentano, quelle del comune di Piacenza, avranno però una sgradita sorpresa. Non riceveranno infatti la merendina post sonnellino. Lo ha confermato il sindaco Paolo Dosi, precisando che si tratta di un provvedimento non solo di natura economica, il comune risparmierà circa 40.000 euro, ma anche legata alla riduzione degli sprechi. Senz'altro la merendina resterà per i bambini che hanno il tempo prolungato, quindi quello non viene messo in discussione. Nella dinamica degli asili che hanno l'orario di chiusura alle 16, la merenda data alle 15.30, spesso svegliando i bambini dal riposo pomeridiano, non viene utilizzata, quindi rimane preparata ma poi occorre buttarla via proprio perché. E questo accade, le statistiche ci dicono, in una quantità superiore al 50% delle merende che vengono preparate. Nessun bambino uscirà dall'asilo affamato? Assolutamente no, ci mancherebbe insomma, anche perché credo che, ricordo sempre che le mense scolastiche della nostra città sono prese come esempio a livello nazionale per la qualità del prodotto e per l'attenzione che viene rivolta. Siamo molto avanti rispetto a tante altre realtà anche del nord Italia. Una scelta di questo tipo è ispirata soprattutto al contenimento dello spreco che si traduce certamente anche in un risparmio, il tutto però nel rispetto e nell'attenzione nei confronti del singolo bambino. La Giunta ha deciso di mantenere invariata la tariffa a carico delle famiglie. In realtà non abbiamo applicato alcun aumento come invece hanno fatto molti altri comuni. Ricordo che la nostra tariffa è bloccata ormai da tanti anni, ha concluso il sindaco Dosi.